cari e cirrini pensavate che vi avremmo lasciato solo in questi tempi estate eccezionale ovviamente no perché un'estate senza cr ma che estate è un'occasione unica per stare tutti insieme quest'estate faremo di più arriveremo alle vostre case e vi faremo fare un viaggio casa di tutti strada comune con la parola la puoi percorrere è la tua strada la tua comunità fa la tua parte questa è la libertà è una città grande ti appartiene occasione unica cosa serve? zaino? voglia di camminare insieme? tanta fantasia? muore e testa tutti in piazza dai a costruire il bene con la cr si può volare siate pronti? via al tempo estate eccezionale è una grande festa chiama anche te cuore e testa su Gesù lo sai ci puoi contare la città giusta ti fa abitare ci puoi contare la città e testa su Gesù lo sai